Con un decreto ministeriale e un'ordinanza del presidente della regione siciliana, da oggi parte la fase 3, quindi via libera alla mobilità tra regioni, abolendo l'autocertificazione e anche l'obbligo di quarantena per chi raggiunge la Sicilia da altre regioni. Con la sua ordinanza, Musumece ha confermato la riapertura della stagione balneare a partire dal prossimo 6 giugno. Ha dato disco verde a tutte le attività già autorizzate, ma soprattutto ha posto fine alla quarantena obbligatoria per quanti fanno rientro in regione, a partire quindi da oggi, per i quali permarrà comunque la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza e di sintomi riconducibili al Covid-19. In Sicilia quindi il via libera agli spostamenti infra e interregionali, accompagnati sempre da precise regole che sono contenute nel progetto Sicilia Sicura, che è stato presentato questa mattina alle 11.30 a Palazzo Orleans dal presidente Musumeci con Guido Bertolaso e alla presenza degli assessori in Malio Messina, Ruggero Razza e Mimmo Turano. Poco prima il governatore ha incontrato nella sala Lessi le associazioni di categoria perché ha chiarito la regione vuole essere un supporto concreto e non un limite, vogliamo dare competitività al nostro sistema e sicurezza nei comportamenti collettivi e individuali. Fra le novità anche il via libera a piscine e strutture termali che erogano i cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza, consentite pure le lezioni pratiche delle autoscuole per il conseguimento delle patenti nautiche. In questa fase 3 confermato anche il riavvio delle attività di catering a partire dal prossimo 8 giugno. Per quanto riguarda i centri commerciali e supermercati, l'apertura nei giorni festivi sarà regolamentata entro sabato 6 giugno, in base alle indicazioni che organizzazioni datoriali e sindacali già attivate forniranno al Dipartimento regionale delle attività produttive. La riapertura alla circolazione fra le regioni ha provocato questa mattina lunghissime file in auto a Messina in prossimità del porto per l'imbarco. Code davanti agli imbarcaderi già per la prima corsa delle 4.40 e per quella successiva delle 7.20. Il maggior flusso di passeggeri sullo stretto anche in arrivo dalla Calabria. Chi arriverà in Sicilia potrà inoltre scaricare l'app Sicilia Sicura e inserire in maniera facoltativa i dati personali sul proprio stato di salute, sugli spostamenti ed eventuali casi di Covid-19 in famiglia. In caso di febbre si ricorda che basterà sempre una comunicazione e interverranno i sanitari dell'Asp sul territorio. Grazie a tutti!